Lo spettro che alleggiava sul Consiglio Comunale di Gela non c'è più. Lo tsunami politico è stato scongiurato. All'una della scorsa notte la Sisa Civica ha votato il bilancio di previsione 2016. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se non passava si rischiava il commissarimento e tutti i consiglieri sarebbero andati a casa. Il Consiglio Comunale lo ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, ovvero la Presidente Alessandra Acia. Il voto favorevole è stato espresso da Giuseppe Ventura, Antonino Biundo e Cristian Malluzzo di Adesso Gela, da Guido Siragusa e Sandra Bennici del Polo Civico, da Antonio Torrenti e Maria Pingo del Megafono, da Vincenzo Cascino e Anna Comandatore della lista Musumeci, da Francesca Caruso e Luigi Di Dio di Reset 4.0, da Salvatore Sammito di un'altra Gela, dagli indipendenti Carmelo Casano, Sara Cavallo e Angela Di Modica e dall'esponente Udc Giovanni Panebianco. Il no, così come già anticipato negli ultimi giorni, è stato ribadito da Salvatore Scerra di Forza Italia, dal gruppo del Partito Democratico con Enzo Cedignotta, Romina Morselli, Salvatore Gallo e Carmelo Orlando e dal Movimento 5 Stelle con Enzo Giudice, Simone Morgana, Virginia Farruggia e Angelo Amato. Come dicevamo, si è astenuto il Presidente della Sese Civica, Alessandra Acia. Non sono stata coinvolta nella programmazione dello schema di bilancio elaborato dall'amministrazione sin dalla fase iniziale, ha spiegato il Presidente. Non sento di esprimere una valutazione positiva o negativa. Ritengo si tratti anche di rispetto istituzionale e mi auguro che questo Consiglio Comunale, in primis, abbia capito il mio punto di vista. Per queste ragioni, con il ruolo imparziale di Presidente del Consiglio Comunale, mi sono astenuta.